Dritti al punto, report di mandato, tempo di bilanci, Assessore Sclocco, 5 anni intensi, tanto lavoro per la Regione e soprattutto per le politiche sociali nella nostra Regione. Sì, dritti al punto perché inutile girarci intorno. Andiamo dritti al punto, abbiamo fatto sì che ci fosse una vela rivoluzione delle politiche sociali e quindi anche dei servizi per i cittadini perché abbiamo riportato la Regione Abruzzo ai livelli delle regioni migliori d'Italia. Questo ha portato sicuramente a un cambiamento, quindi uno scossone per cui i veri risultati si vedranno sicuramente fra qualche anno quando davvero i territori comprenderanno la potenzialità di questo piano sociale regionale. Il più grande cambiamento è stato quello di accorpare gli ambiti sociali con i distretti sanitari, in modo che la sanità parlasse con le politiche sociali. L'altra cosa importante che abbiamo fatto è decidere, è stata una decisione politica, decidere di far sì che il Fondo Sociale Europeo, che è il fondo più grande che noi possiamo avere, che noi di fatto abbiamo, quindi ci sono milioni di euro, avesse come protagonisti i comuni e non gli enti privati come si faceva una volta, che sono comunque importanti, che sono comunque coinvolti in partenariato ma che non sono i capofila dei progetti. Quindi in questo modo abbiamo fatto sì che attraverso il piano sociale venissero soddisfatti i livelli primari di esigenza sociale ma grazie al Fondo Sociale Europeo si parlasse ai territori e alle fragilità anche in termini di lavoro. Quindi far sì che le fragilità incontrassero il mondo del lavoro per essere non più politiche sociali ma essere cittadini attivi.